Siamo qui ad un tavolo da biliardo con il bomber Pruzzo che sostiene di essere un grande esperto. No, un grande esperto no, ma ti ho detto prima che ci sono nato, praticamente cresciuto in un bar e il biliardo era d'obbligo. Adesso sei un po' arrugginito magari. Sì, nettamente arrugginito. Non conosco più, non conosco, ci vuole un po' di mano. Però basta anche poco per riprenderla. Sì, assolutamente. Invece, idealmente, se ti trovassi di fronte a qualche giocatore della Roma, che adesso magari è in procinto di essere ceduto, chi bocceresti? Boccerei nessuno, nel senso che ci sono dei calciatori che decidono a un certo punto della loro carriera di cambiare aria. E poi se c'è anche la possibilità e la capacità di recuperare una cifra importante, come mi sembra stia succedendo, arrivederci a Giazio. Nel caso di Manolas, ad esempio? Sì, ma anche Salah è stato pagato, se ben mi ricordo, la metà esatta più o meno di quello che la società è riuscita a incassare adesso. Manolas non so quanto è stato pagato, ma se va intorno ai 30 è comunque una posvalenza veramente positiva. Quindi va bene. Il problema sarà sostituire al meglio Salah? Sì, il problema è sostituire i giocatori forti che possano comunque andare via da una squadra già forte. Però l'idea di avere a disposizione una cifra importante ti fa anche pensare che questi soldi si possano rinvestire in giocatori altrettanto importanti. Però fino a questo momento ti convince il mercato della Roma perché sono arrivati dei giocatori anche costosi che però sembrano rappresentare ancora delle scommesse. Ti devi fidare del direttore sportivo che peraltro adesso il mercato ormai arriva anche ai livelli di dover scegliere anche dei direttori sportivi stranieri che conosceranno sicuramente bene il loro mestiere, che avranno i loro canali. In realtà a Roma sono arrivati ufficialmente, non so neanche dirti quali giocatori. Berardi lo prenderesti alla Roma al di là delle capacità che tutti gli riconoscono, però insomma lo vedi un giocatore alla Roma pronto per questo tipo di salto? Tu lo vedi pronto? Tu magari sei un po' più esperto di me. Devi sostituire Salah, che può piacere o non piacere. Salah non è un fly class. L'abbiamo scoperto in questi anni e mezzo, due anni di permanenza alla Roma. Però è un ottimo giocatore che ha fatto spesso e volentieri la differenza. Spesso no, però l'ha fatto in certi momenti. E quindi non lo so, Berardi è un ottimo giocatore, che però tolto dalla realtà di provincia dovrebbe rapportarsi a una realtà diversa e quindi staremo a vedere.